Le parole di Stramaccioni infuocano letteralmente i tifosi della Juventus. Ho voluto prendermi un giorno di tempo prima di parlarvi di questo video perché ho voluto vedere le vostre reazioni. Qua ci sono le parole che ha detto Stramaccioni prima che voi tutti impazziate. Devo dirvi una cosa, una notizia che è arrivata da parte dei familiari dell'ex allenatore dell'Inter. Prima di partire con questo video un enorme ringraziamento a tutti voi per il continuo supporto che mi date con l'iscrizione al canale che non è obbligatoria. Ma soprattutto con la condivisione dei miei video e con i commenti sotto i video. Così facendo possiamo interagire insieme, si crea una bella community. Detto questo un bel like, l'iscrizione al canale non prima di aver fatto un giro e aver visto il canale come strutturato. Dopodiché potete farlo. Per chi è già iscritto attivate la campanellina. Soprattutto condividete questo video, condividete il più possibile perché sono le vostre reazioni. Le reazioni dei tifosi della Juventus e le parole un po' esagerate del ex tecnico dell'Inter, Neroazzurro Stramaccioni. Prima di leggere le sue parole volevo dirvi proprio questo. È arrivata una notizia da parte dei familiari di Stramaccioni che si scusano per le parole dette proprio dal... dal ex tecnico dell'Inter ma spiegano loro, detta loro, da alcuni familiari vicini a loro che è sotto psicofarmaci e non aveva preso le sue medicine. Quindi quando non prende le sue medicine Stramaccioni, straparla un po'. La famiglia ci tiene a dissociarsi dalle parole dette dall'ex tecnico dell'Inter e spiega anche il motivo. Senza psicofarmaci non regge la mente. Andiamo a leggere. L'ex allenatore dell'Inter spende parole al miele per il talento di Bari Vecchia. Che cosa ha detto? Ha detto praticamente Per giocate pure metto Cassano un gradino sopra ad Alessandro Del Piero. Quindi secondo Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, Andonio Cassano è un gradino superiore all'icona del calcio, almeno l'icona della Juventus, Alessandro Del Piero. Sono scoppiati tutti i commenti sui social da parte vostra. Chi gli ha dato del malato di mente? Chi gli ha dato del rosicone? Chi gli ha dato pure ragione? Perché alla fine sono punti di vista. Commentate voi qui sotto in questo video che cosa ne pensate se secondo voi aveva ragione lui oppure è un rosicone, oppure c'è da prendere in considerazione le parole della famiglia che si dissociano perché, detta loro, non aveva preso gli psicofarmaci. Dice lui uno Cassano l'ho respirato in due momenti, dice lui. Uno nella Roma perché io ero al settore giovanile e il giocatore che arrivava da Bari Vecchia era qualcosa di incredibile. Noi abbiamo visto l'anno di Totti e Cassano quando giocavano assieme e facevano le due punte anche se non lo erano. Sparivano palloni, facevano delle giocate e si capivano solo loro perché altre coppie non si sono mai capite tra di loro. Solo Cassano e Totti. Ricordo quel 4-0 alla Juventus guarda caso, si ricordano sempre quando vincono contro la Juventus cioè basta una partita poi ci ricordiamo la Roma quell'anno lì che fece basta una partita che vincono contro la Juventus solo ricordano per tutti gli anni quel 4-0 contro la Juventus in cui hanno prodotto una serie di giocate incredibili. Poi l'ho avuto da giocatore all'Inter, dice lui, quando era allenatore prima penso del trattamento con gli psicofarmaci con lui ho visto delle cose che non ho mai più visto e poi ci tiene a fare il paragone con Alessandro Del Piero ora, secondo me, stramaccioni, a parte psicofarmaci o no anche uno che assume psicofarmaci ed è in astinenza da una settimana non può mettere a paragone Alessandro Del Piero con Cassano con tutto il bene che vogliamo a Cassano come cacciatore, come persona perché non abbiamo niente contro Cassano però tu stai mettendo a paragone Del Piero del Piero che ha trascinato anche la nazionale più e più volte con Cassano ma anche come giocate ma di che cosa stiamo parlando? Poi è normale che la gente vi insulta ditemi voi qui sotto se gli insulti che gli sono arrivati sono logici oppure no perché a me sembra più una persona proprio si capisce che fa uso dei psicofarmaci perché questi ultimi 12 anni in cui per 10 anni la Juventus ha sempre vinto almeno in Italia tutto quello che c'era da vincere lasciando ogni tanto qualche briciolina a qualche squadretta niente all'Inter e niente al Milan abbiano fatto sì che la sua condizione psicologica sia proprio andata a puttana ed è per questo che tu te ne esci dopo 14 anni quando le altre squadre cominciano a vincere qualcosina dicendo guarda caso dopo una sconfitta della Juventus contro la Roma immeritata tra l'altro facendo un paragone del genere cioè parlando di Cassano e paragonandolo a Del Piero perché non hai paragonato che non so Cassano a Sedorf Cassano a Ibrahimović Cassano a Ronaldo a suo punto perché non hai paragonato Cassano a Ronaldo perché non hai paragonato Cassano a che non so a Maradona a suo punto abbiamo capito che è un tuo pupillo ma la cosa più strana è che nessuno negli studi di Dazon si è dissociato da questa cosa cioè nessuno abbia detto abbia fatto una faccia storta cioè adesso è l'ennesima l'ennesima evidente prova che i dieci anni di vittorie consecutive ripeto anche se la gente dice sono nove ma sono dieci perché l'anno di Pirlo abbiamo vinto Supercoppa e Coppa Italia quindi la Juve vince per dieci anni consecutivi ha creato tanti tanti mostri tra cui anche stramaccioni detto questo ditemi qui sotto voi che cosa ne pensate i commenti sono stati tantissimi da parte di tantissimi sui social riguardante a questo argomento ditemi voi la vostra è un argomento che fa anche un pochettino ridere però ne voglio parlare con voi il video finisce qui io vi saluto se siete arrivati fino a qua siete dei supereroi condividete il più possibile un bel like a questo video iscrizione facoltativa ciao a io